Ma poi guardavo, famela, vieni, succhia, la mela del peccato. Che si dice mordere? C'è scritto succhia c'è il motivo. Che non sa parlare l'italiano Arturo? Allora facciamo la pagella alle troie, ma... Ma perché mi devi rompere i coglioni? Ma come non perti i coglioni? Ma non vorremmi andare a caprare in questo stato. Ma che stato? Sei vergine! Cosa stavano tre anni con il rigbista di Minato? A parte non è il rigbista e poi sono lasciati. Cosa vuoi dire? Il paragone scatta lo stesso. Ma perché devo chiamare una puttana? Per tutto, ti dà una mano, dolori, eiaculazioni precoci, blocchi mentali. Dolori. Dolori! Per un bacco una tre è come tirare un salsiccio in un bicolo? Vabbè, però volendo posso anche farmi fare una sega e basta, no? Ma sei scemo. C'è una sega a 150 la faccio io. Pronto? Sì, ciao. Senti, le foto sono vere? E per scopare? Beh? Ha buttato giù. Sei una bestia a parlare con la gente, Arturo, ci crede? Ha buttato giù. Non lo so, allora chiamala te. Vabbè, che c'entra? No, chiamala te, dai. No, è un'idea tua. Diamo, non viene contro, chiamala te. No, Arturo, io non la chiamo. Dai! Dammi una mano. Ma che palle, oh! Sempre io. Eh, eh, dammi il numero. Tieni. Dai, così richiamo me lo sento. Ma sei scemo da farla finita? Ma se ci vedi la nonna di bianca? E lì si ricercherà la donna di polizie. Con i tetteri fuori. Verrà mia visita la puttana, hai ragioneci. Dai, mangia due semi di zucca. No, ti ho detto non mi va. Mangia due semi di zucca, ti fanno venire di più. Ma che cazzo me ne frega? Ma lei ne frega a lei? Ma che discorsi fai? È una dimostrazione d'amore, eh. Che chiami? Lei, non ce la faccio. No, dai, Edo, falla finita. No, Arturo, Arturo. No, smetti, oh smetti. No, c'è, allora ci vai te. Ma non ci vada a perdere la virginità, chissà dove. Ma te l'avi trombato all'ara? Sei un critico. No, 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 no. Dai. È arrivata. Ci parli te, eh? Io non ci parlo. No, Arturo. Cazzo, ma è morto. Cazzo, ti avevo detto a ramparsene le foto. Ma che discorso è? Come faceva se a ramparsene le foto? Che cazzo si fa ora? Nulla, si aspetta vada via. Ma cosa aspetti vada via se c'è il magnaccia? Ma l'hai vista? Solo dico che c'è il magnaccia. È uguale, ci devo parlare, se no succede un casino. Ah, per me ci parli te, eh. Dai, dai, che ci parli.